Ciao, vi presento il mio personaggio. Nome, capocognoco. Cognome, pizza. Nazionalità, italiana. Eta, 28 anni. Città, Roma. Accevita e salva la città, gettando pizze sui marvagi. Fisico è piccolo e grande, con in mano egli ha un capello da cuocco. Lui ha i capelli neri corti. Stile, si tratta di un capocognoco. Caratelle, è bello e si arrabbia, ma morto rapidamente. Passione, salvato la sua città. Missione, combattere il male.